Chiara Ianni è l'unica degli otto componenti, il nuovo direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, poco nota al territorio, perché non ha mai ricoperto un incarico istituzionale. Gli altri sette infatti sono stati, o lo sono ancora, sindaci o amministratori comunali. Ianni ha 33 anni ed è di Castellabate, lavora presso una struttura alberghiera e da 10 anni è impegnata nel mondo dell'associazionismo, anche ambientale. Ringrazio chi mi ha segnalato al ministro, dice, metterò a disposizione la mia esperienza per favorire un progetto di crescita complessivo dell'intera area protetta. Per me inizia una nuova sfida, so che non sarà semplice ma la cosa non mi spaventa, anzi, vorrò dialogare con tutti indistintamente dal colore politico, perché l'unico obiettivo che dovrà essere in comune sarà quello praticamente di difendere questo territorio e di far conoscere e tutelare questa splendida perla che è il nostro Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Come Ianni, anche Spinelle e Maiuri sono di Castellabate e questo ha fatto storcere il naso a molti. A difendere le scelte del ministro, il presidente Coccorullo. I ministri hanno scelto per le competenze che magari si potevano avere in quella cosa, è stata casuale che siano tutte etretiche a Castellabate. Non penso che oggi il problema è da dove e quale comune vengo, l'importante è che sono del territorio e del Cilento, perché in passato sono stati calati dall'alto anche nomi che non erano del Cilento e del Vallo di Diano e Alburni, quindi oggi sono contento invece che siano state scelte persone del territorio.